All'indomani della vicenda del sacerdote che ha spiato dentro lo spogliatoio sono arrivate le dichiarazioni del presidente della squadra Oriana Mannella che ha dichiarato Sono profondamente dispiaciuta che il nome dell'Alba Verde o comunque di una società di pallavolo femminile di Caltanissetta si è rimbalzato sui social per vicende extrasportive. Al di là delle speculazioni che si possono fare sul ruolo rivestito dall'individuo di cui non conosciamo il nome, ha condinato Oriana Mannella, resta la gravità del fatto per una vicenda che ha contornio sé, al di là delle giustificazioni sicuramente risibili che ha fornito di prima acchito il protagonista. Siamo disgustati, ha proseguito la presidente dell'Alba Verde, e condanniamo qualsiasi forma di violenza a tutti i livelli. Mi sento in dovere di manifestare la mia vicinanza alle mie giocatrici, soprattutto le minorenni, in quanto come donna mi immedesimo in quello che stanno provando, anche perché qualcuna di loro si è posta la domanda circa la possibilità che da tempo potevano essere osservate. Come società, prosegue la Mannella, stiamo seguendo con attenzione la vicenda, cercando di evitare facili strumentalizzazioni, ma al contempo per capire se e come dovremmo intervenire nel caso in cui la vicenda dovesse avere risvolti di tipo giudiziario. Grazie.